Maier sono alzate praticamente prima di tagliare il traguardo, questo vuol dire che è un minimo di preoccupazione nelle atlete, per questo arrivo così ristretto c'è e fa perdere un po' di velocità, cercano di frenare un attimo prima di tagliare il traguardo. Sì, ho parlato con alcune di loro, di diverse nazioni dopo la ricognizione e per tutte le atlete c'è preoccupazione per questo piccolo traguardo, metto di funzione oggi dagli organizzatori qui di Altener Stauk. Heidi Zurbrigen, 26 anni, la sorella di Pirmin, ha il migliore intermedio, vedremo se saprà continuare nella sua azione efficace, nella parte conclusiva del tracciato, quella che ha un livello tecnico maggiore. Eccola oramai per tagliare il traguardo ed è prima con un secondo e 38 ed eccola costretta a una grande frenata, avete visto proprio la posizione di Heidi Zurbrigen che al contrario delle altre è rimasta giù alla ricerca della massima velocità fino a che non ha tagliato il traguardo. Già l'anno scorso avevamo avuto modo in telecronaca di sottolineare la pericolosità di alcuni arrivi, uno per tutti, quello di Aus, pochi chilometri distante da qui, un arrivo limitatissimo a conclusione di una difficile e impegnativa discesa libera. E lì abbiamo avuto un paio di cadute fortunatamente senza conseguenze ma estremamente pericolose, si sono addirittura infilate sotto i materassi di protezione. Grandi problemi per Astrid Lodemel in quel curvone, per la norvegese 22enne di Tarnabin, medaglia d'argento in discesa libera ai mondiali di Morioka. Ha infatti un secondo e 21 centesimi di ritardo ed è fuori. Arriva violentissimamente sul pubblico, ha postato dietro le reti. Viene fermata Silvia Eder, abbiamo visto sbandierare un giudice di porta, fermata quindi la ventotene di Leogang che dovrà ora ritornare in partenza, poveraccia, mentre purtroppo Astrid Lodemel sembra essersi infortunata, è stato avvicinato il taboga per portarla giù. E dovremmo ora vederla comparire in diretta. Il primo tornante ed è fuori. Al momento di chiudere la curva si è inclinata all'interno e ha perso completamente la base d'appoggio. Anche per lei si è fatta sorprendere la zona dove cambia la neve. Non è facile, si passa da una situazione di neve di fondo duro, classico invernale, ad un fondo liscio di neve... Oesle, vent'anni, di Schnellroth. Deborah diceva qui ieri quando abbiamo fatto sciata libera in pista c'era il parcheggio. Non si sapeva bene dove avrebbero piazzato il traguardo e poi miracolosamente è comparsa la neve. Ma forse ne è comparsa troppo poche anche per la Oesle. Nello stesso punto dove è uscita la nostra Deborah Compagnoni, una caduta. Mentre Martina Hertel viene riproposta al cancelletto nella parte registrata ed ora la andiamo a ritrovare dopo una cinquantina di secondi. Da vent'anni di Lengriè, anche lei è fuori nelle reti e le distrugge. E' lo stesso punto dove è caduta Deborah Compagnoni, lo stesso punto dove è uscita Reghine Ösle. Lei ha voluto... ...di giocare le carte che aveva a disposizione per una medaglia nell'appuntamento più importante, lasciatemelo dire, della vita, che sono poi i giochi olimpici. E intanto in cuffia la regia austriaca ci ha urlato che la gara è cancellata. A questo punto direi...